Dai Madonnari all'antica festa del Maio, dalla salata di San Ciro al tour nei siti archeologici della città. La Regione Campania premia Nocera Superiore con 70 mila euro. L'ammissione al finanziamento rilancia la progettazione archeologica e turistica di Nocera Superiore. Il programma operativo complementare presentato dall'amministrazione Cuofano è stato ritenuto dalla Regione Campania meritevole del maxifinanziamento a sostegno degli eventi e delle iniziative cittadine inserite nel carnet delineato nel progetto strutturato e candidato dall'assessorato al turismo coordinato da Giuseppe Senatore. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro di tutta la squadra di governo, sottolinea il sindaco Giovanni Maria Cuofano, perché nella stesura finale del progetto candidato a finanziamento ci sono le idee e le proposte di tutti. La premialità ricevuta dalla Regione Campania rilancia con forza tutta la componente archeologica e turistica della città, perché dall'infa alle antiche tradizioni locali e agli eventi religiosi collegati, solo per fare un esempio su tutti, alla presenza del Battistero Palleocristiano al Santuario di Materdomini. A questi itinerari abbiamo inserito nel progetto, presentato con delibera di giunta numero 215 del 9 luglio 2019, anche ai momenti della tradizione, come la festa del Maio e la Salata, sino ad arrivare all'ormai riconosciuto concorso internazionale dei Madonnari, che ogni anno conta migliaia di visitatori provenienti da ogni latitudine. Ci auguriamo, conclude il sindaco Cuofano, che oltre al nostro impegno giunga anche quello della soprintendenza e dei ministeri competenti, perciò che attiene la parte strettamente archeologica, perché vogliamo rendere pienamente fribili i nostri siti che meritano attenzione, dignità ed il giusto riconoscimento turistico. Grazie.